ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video come vedete qui davanti a me abbiamo due iphone 6 vi chiedo su se vi una notifica è un video molto veloce comunque sia farò vedere in breve come installare la beta allora troverete in descrizione un link che vi porterà questi due link qua c'è un link il primo link normal link di backup in caso il link non funzioni avranno sostituite basta che voi mi scrivete un commento il link non funziona aspettate che clicco un attimo fine quello da fare è cliccare sul link aprirlo in safari questo link qua si aprirà una cosa da fare se voi per caso avete le beta come me quelle precedenti ovviamente io vabbè io lo pago comunque sia come sto facendo questo procedimento è gratis è di installare il vecchio software beta quindi rimuove il profilo vecchio messo un attimo il codice vedete qua rimuovi in questo caso il riavvio bisognerebbe farlo io non lo faccio per intanto poi bisogna farlo successivamente quindi poi successivamente clicco sul primo link mamma mia sta roba non prende eccoci qua se clicca successivamente sul profilo che si vuole installare in questo caso io ho 12 beta profile si aprirà una pagina a fare un ricaricamento e io donna vista in 5 second pieno di pubblicità è normale il primo link che ho trovato per farlo gratuito comunque sia intanto che aspettiamo volevo dirvi che purtroppo la live di oggi me l'hanno segnalata come copyright arrabbiato così perché anche può poter mettere canzoni che non hanno copyright poi loro stessi me l'hanno segnalato nonostante devo dirla tutti gli ho fatto bella pubblicità guardate sempre consenti anche qua consenti in questo caso vedete se avete un apple watch collegato bisogna cliccare iphone come ho fatto io perché si è aperto booking non lo so installa eccoci qua installa i due profili installa installa riavvia riavvia uno è un iphone 6 o non 7 fanno un attimo riavvio chiedo su se non si vede bene ma è proprio improvvisato così vediamo su tutte queste nuove novità per me adesso che l'altro non lo faccio forse neanche domani perché comunque sapete sta finendo la scuola mancano due giorni e ecco io non volevo appunto diciamo perdere tanto tempo dentro questo però probabilmente appena venito a scuola il giorno stesso faccio il video l'iphone è pronto metto un attimo il codice eccoci qua andiamo in impostazioni generali aggiornamento software si trova iOS 12 vabbè qua attaccia di andato scarica installa avete trovato l'aggiornamento si installa già primo bug grafico fantastico si inserisce qua stessa cosa quindi in poche parole cosa che fa ve l'ho fatto molto velocemente in breve passaggio prima di tutto vabbè è quello di fare prima di tutto se avete un profilo beta precedente disinstallare quel profilo perché se non ti potrebbe fare il conflitto non vi fa trovare l'aggiornamento perché vi fa trovare le precedenti beta seconda cosa da fare è assicurarsi di avere un buon wifi perché con le sue dati non vi fa fare l'aggiornamento terza cosa ricarsi su uno dei due link che vuoi soluzionare la beta che voi volete caricherà un sito di adfly pieno di pubblicità voi schippate tutto fino a che vi dirà vuoi installare un profilo voi cliccate su consenti il profilo si installerà voi mettete il codice dell'iPhone si installerà fate riavvio dopo riavvio andate in impostazioni generali e aggiornamento software troverete l'aggiornamento vi ricordo essendo la prima beta che è ovviamente ufficiale Apple Apple Inc essendo la prima beta contiene molti 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 bug problemi quindi non vi consiglio di installarla io lo faccio questo video qua molto rapido perché non ce ne sono per niente diciamo online ho trovato questi video questi link qua spero che mi possano essere d'aiuto lo carico senza tagli velocissimo dura 4 minuti adesso va online due cose che volevo dirti vabbè adesso in un aspetto qua al termine del caricamento faremo un video a parte successivamente arriverà un video adesso forse più tardi anche dove installo anche il software sull'iPad che in questo momento sta registrando quindi se guardano nel massimo l'iPad e appunto lo farò tramite CAO perché l'iPad non ha i profili così vi faccio vedere anche come si fa in questo modo poi voi potrete fare anche un'installazione pulita o semplicemente un aggiornamento se non lo avete spazio quello lo vediamo in un prossimo video questo qua è il modo via OTA quindi over the air per farlo più velocemente il video è durato già 5 minuti questo è Rodrigo alla prossima ciao a tutti